L'Ottica Ottobelli di Tortona vi invita sabato 14 aprile dalle ore 16 in Piazza Malaspina per festeggiare un compleanno speciale, quello dei nostri primi dieci anni. Ad agliettare il pomeriggio il violino di Cecilia Concas che accompagnerà la performance acrobatica di Grace. Save the date sabato 14 aprile dalle ore 16 in Piazza Malaspina 14 a Tortona per il decimo compleanno di Ottica Ottobelli.